Nel prossimo servizio ci occupiamo di Futurum. Scegliere il proprio futuro scolastico e professionale non è semplice. Per cercare di aiutare i giovani a compiere una scelta ponderata è nato il progetto Futurum, una fiera incentrata sulla formazione volta a fornire informazioni capillari, giunta quest'anno alla seconda edizione. A presentare i dettagli di Futurum 2009, in programma dal 10 al 13 dicembre alla fiera di Bolzano, i quattro assessori provinciali Sabina Caslater-Mur, Cristian Tomasini, Hans Berger e Florian Musner. Sì, noi sappiamo quanto oggi sia importante la formazione lungo tutto il corso della vita. La nostra società cambia rapidamente e quindi bisogna sapersi adeguare e rimanere costantemente aggiornati. Quindi attraverso Futurum noi vogliamo veramente far vedere, mostrare qual è l'offerta formativa complessiva della nostra provincia che investe molto in educazione e formazione. Quindi dai primi anni di età, dalla scuola per l'infanzia, con l'offerta formativa, tutta l'offerta delle scuole, l'università, ma anche ciò che avviene nella società, attraverso l'educazione permanente, attraverso la formazione professionale. Quindi ci si può e ci si deve formare lungo tutto il corso della vita e attraverso questa fiera noi ci rivolgiamo quindi agli insegnanti, agli studenti, ma in generale a tutti. Quindi invito anche le famiglie e le persone a venire a visitare la fiera perché potranno sicuramente trovare qualche percorso formativo e qualche corso che può interessare tutti. Le scuole secondarie, superiori e professionali dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano si presenteranno insieme alle organizzazioni e alle associazioni economiche e professionali suddivise in 18 isole tematiche, come ad esempio agricoltura, alimentazione, arte, musica e grafica, cultura, edilizia, elettronica, informatica, pedagogia, turismo e molti altri ancora. Saranno presenti inoltre università ed istituti superiori del nord Italia, di Germania, Svizzera ed Austria. Futurum, la fiera della formazione in programma dal 10 al 13 dicembre nel quartiere fieristico di Bolzano rimarrà aperta dalle 9 alle 18 e sarà ad ingresso gratuito. Inoltre è previsto un ricco programma congressuale. Futurum, perché nel futuro sarà sempre più importante investire sull'educazione, la formazione e l'aggiornamento e mantenere la competitività della provincia altoatesina.